Benvenuti da Claudio Brachino a questo secondo appuntamento con il nuovo format che l'agenzia di stampa Italpress ha lanciato nel 2024 nell'ambito della sua produzione multimediale, il titolo lo vedete, l'ho spiegato l'altra volta, USA 2024, seguiamo con il nostro format consueto, 15 minuti molto veloce con il corrispondente da New York Stefano Vaccare che tra poco salutiamo, ovviamente le elezioni presidenziali americane, sapete che le elezioni prima dello sconto diretto fra i candidati del Partito Repubblicano e del Partito Democratico hanno le cosiddette primarie, cioè i due partiti sceggono il loro candidato attraverso una battaglia politica interna nei vari stati molto forti. Stefano ti saluto, anche per te il secondo appuntamento, sei nel tuo ufficio all'ONU. Sono a New York, all'ONU e qui in mattina l'America si è svegliata con Trump vittorioso dal New Hampshire. Allora, te la faccio subito la domanda perché siamo qua, avevamo detto al pubblico, io mi dilungo un po' all'inizio per spiegare come sempre, secondo la mia scuola, dove siamo, chi siamo, ti ricordi le 5 W dell'esambio del giornalismo, perché ci siamo e senza farla né, quindi avevamo detto che avremmo seguito le primarie, il secondo appuntamento dopo l'Aiowa e New Hampshire, com'è andata? Allora, è andata come si prevedeva, ha vinto l'ex presidente Trump, ha vinto, ha vinto con margine sicuro, cioè 11 punti di distanza, ha passato il 50%, però non ha schiacciato Nikki Haley abbastanza, non l'ha diciamo travolta abbastanza e lei quindi non si è ritirata. E quindi questa è una vittoria che lascia la mare in bocca a Trump e si è visto subito, si è visto subito ieri sera quando è apparsa in televisione, che aveva vinto un vincitore, tra l'altro in Aiowa lui era stato molto moderato, aveva parlato di unità del partito, invece era scatenato, furioso, era una furia contro Eli, perché Eli poco prima e aveva detto che lei rimaneva in corsa, che si sentiva ancora competitiva. Adesso, questo ovviamente i dati ci danno che Trump ha ormai la nomination in tasca, veramente un miracolo potrebbe salvare la Eli, che adesso deve affrontarlo nel suo stato, dove è stata governatrice, cioè stiamo parlando della Sud Carolina, però lì addirittura sono 30 punti di stacco per ora secondo i sondaggi, però lei rimane e quindi lì è una vittoria che Trump invece si aspettava, voleva eliminarla totalmente per unificare questo partito repubblicano, che unito non è, per poi poter affrontare a novembre Biden con la forza del partito repubblicano. Però, fino adesso, la situazione è rimasta invece difficile per l'ex Presidente. Allora, questo è il quadro che tu correttamente ci hai rappresentato, che poi raccontano soprattutto i siti, perché i giornali non fanno in tempo per il fuso orario, però i giornali avevano un po' anticipato le cose, adesso io te le chiedo, diciamo, man mano a secondo le varie curiosità che si possono avere su queste vicende. Innanzitutto, rispetto all'altra volta, si è ritirato Ron De Santis, che ha detto che poi sosterrà Trump, quindi rimane solo, appunto, come tu correttamente hai detto, solo l'Alei, che percentuale, diciamo, di possibilità di rimanere in gara ha nel South Carolina? È vero che i sondaggi... Allora, è una questione di soldi, è una questione di soldi pure, non è solo una questione di volontà, perché le primarie della South Carolina sono il 24 febbraio, tra un mese. Per arrivare fino al 24 febbraio deve avere i soldi per la pubblicità, per stare lì, fare i dibattiti, girare, e i soldi tra l'Alei ne ha spesi tanti sia in Aio, ma soprattutto in New Hampshire, dove avrebbe dovuto vincere secondo la sua spesa. Adesso si tratta solo di questi soldi, c'è chi dice che lei i soldi ce li ha, perché ha i suoi finanziatori di Wall Street che sono pronti a dargli i soldi. Diciamo che l'ha aiutata il fatto, come ho detto prima, che non sia stata schiacciata, perché se la distanza tra Trump e Eli ieri sera fosse stata, diciamo, che ne so, di 20 punti, come si prevedeva, effettivamente Lisa avrebbe dovuto gettare la spugna, o comunque gliel'avrebbero fatta gettare perché chi paga più qualcuno che perde con questo margine. Quindi lei rimarrà, almeno si pensa, perché anche di De Santis, come tu giustamente hai detto, anche lui in Aio aveva fatto un discorso dove diceva che avrebbe continuato fino alla vittoria, e invece abbiamo visto com'è andata. Io credo che lei rimarrà fino al Sud Carolina, venderà cara la pelle, come si dice, anche perché vorrà qualcosa in cambio, per unificare il partito, se mai si unificherà, però se non vince anche nel suo Stato, diciamo che a quel punto... Allora Stefano, proviamo a fare una piccola previsione, facciamo un po' i sondaggisti. L'ipotesi ha, se non vince ma va abbastanza bene nel suo Stato, che scenario si apre, quindi la gara per le primarie va avanti, come e dove, perde sonoramente anche nel suo Stato, che cosa fa? Mette i suoi voti a disposizione di Trump, ma si candida vice, perché intanto l'altra notizia che comunque ti avevi chiesto, ci sono una quantità di nomi che il pubblico italiano non conosce, di possibili vice di Trump, che in parte sono andate sul palco, mi dirai chi di questi ha più scienze di farlo. Allora, per quanto riguarda la prima tua domanda, se Eli perde nel South Carolina, io, almeno questa è la mia opinione, credo che debba rinunciare e pensare già alle elezioni del 28. La tua seconda domanda, se in quel caso la sua endorsement, il suo appoggio a Trump funzioni, ecco, guarda, qua è difficile, perché anche se, mentre con De Santis, gli elettori di De Santis erano vicini alle tematiche di Trump, gli elettori di Eli sono i never Trump, cioè non vogliono Trump, quindi quando, anche se lei dovesse uscire, e poi, e questo è il grande question, Mark, la grande domanda, cioè, anche se Eli uscisse dalla campagna elettorale, gli elettori, soprattutto gli indipendenti, con cui si vincono le elezioni a novembre, senza indipendenti le elezioni a novembre non le vince nessuno, quindi devi prendere la maggior parte degli indipendenti, ecco, anche se lei facesse uno di questi discorsi, riconciliatori, anche se fosse scelta come vicepresidente, come qualcuno ancora dice, però questi elettori never Trumps, che l'hanno dichiarato, ci sono state interviste televisive, nei poll, nei seggi, e questi dicevano, ma se allora non vince la Eli e Trump sarà il nominato, c'è stata una che ha detto, io pur di non votare Trump, ed era repubblicana, ha iscritto la lista, io pur di non votare Trump, voto Mickey Mouse, voto Topoletto. Capisci che Trump è fortissimo tra i repubblicani, vincerà quasi sicuro ormai la nomination, ma questo per il pubblico italiano è importante capirlo, non significa che abbia già vinto la Casa Bianca. No, certo, ma io l'ho detto all'inizio, con semplicità come sai, ma lo ripeteremo tutte le volte, noi spieghiamo cosa sono le primarie, poi seguiremo lo scontro effettivo che accadrà il 6 novembre, insomma, quindi spieghiamo cosa succede. Senti, a proposito di primarie, poi voglio parlare anche di Biden, un'ultima cosa, e torna a questo tema degli indipendenti anche sui nostri giornali, forse è bene spiegarlo, bene quanti sono o no. Sì, nel caso per esempio del New Hampshire, infatti era diciamo il campo di gioco migliore per la Eli, perché era dove ci sono più indipendenti che iscritti nelle liste repubblicane o democratiche. Attenzione, essere iscritti al partito non significa come in Italia quando uno si piglia la tessera, allora si ricordi più la tessera del PC o la tessera della democrazia cristiana. Significa essere iscritti, quando ti iscrivi alle liste elettorali che devi essere iscritto, perché sennò non ti fanno votare, tu devi dichiarare che cosa sei, sei un repubblicano, sei un democratico o sei un indipendente, oppure sei uno proprio che non sei nessuno, neanche indipendente, puoi anche fare questo, non dichiarato si dice. Allora, nel New Hampshire la maggior parte erano indipendenti, cioè circa 30% di democratici, 30% di repubblicani nelle liste elettorali, 40% di indipendenti. Nel Paese non è così grande la percentuale, però tutte le elezioni moderne degli Stati Uniti, se c'è chi vince le elezioni alla fine è chi riesce sì a portare il proprio partito in massa a votare, ma deve prendere la fetta più grande di indipendenti. In questo momento, ed è importante notarlo, e tutti i giornali americani lo facevano notare già stamattina, secondo i sondaggi la fetta più grande di indipendenti non ce l'ha Trump, ma ce l'hanno i democratici. Però c'è sempre il punto interrogativo, perché Biden, diciamo che non piace tanto quanto Trump, cioè gli indipendenti e molti democratici, non vogliono la sfida di nuovo tra Biden. Ecco, e nonno Biden, così dentro con questa denominazione che insomma usano anche i giornali, non vuole essere offensiva, ma uno dei temi di questa campagna, l'età avanzata di tutti e due i candidati, il fatto che in questi anni una grande democrazia come quella degli Stati Uniti e la grande politica americana non ha prodotto altri candidati più giovani in un campo piuttosto che in un altro. E nonno Biden che fa? Come si svolgeranno le sue... Quando è chiamato Sleepy Joe da Trump, cioè Joe che dorme, nonno Biden, tutti pensano che sì, però raggiune i sondaggi, però appunto anche la sua età, però quando sarà, dico, se il duello sarà tra Trump e Biden, non solo si sveglia lui, ma si svegliano gli elettori che l'hanno eletto, perché tra Biden e Trump poi alla fine l'ondata dei democratici si farà sentire. Attenzione però, per esempio, ieri sera la Eli ha trovato una frase che è quasi diventata uno slogan e che era molto efficace. Lei ha detto chi dei due partiti eliminerà il suo vecchietto ottantenne per primo vincerà a novembre. Questo ha detto, cioè lei praticamente gioca sul fatto che tutte e due sono molto anziani. È vero che Trump ancora ottant'anni non ce l'ha, però se dovesse vincere poi diventerà pure lui avrà ottant'anni quando è alla Casa Bianca. Ed effettivamente insomma è un'età dove si comincia ad essere non più lucidi come si è quando si è a 52 anni come Nicky Eli. Quindi questa dell'età hai toccato un punto molto importante perché si giocherà anche sull'età però se dovesse essere come sarà, come tutti pensano che sia tra Biden e Trump saranno due vecchietti che si affratteranno. Io ancora ho tre minuti per farti tre domande poi ci prendiamo un minuto in più però adesso andiamo di fretta ma tecnicamente come saranno le primarie del candidato del PD che è anche presidente in carica? del democratico? sì sì democratico allora per esempio ieri ha vinto Biden pur non essendo nella lista un po' complicato a spiegare in un minuto però c'erano state delle regole insomma volevano cambiare le primarie dal New Hampshire farle passare a su prima cioè non farle andare al New Hampshire il New Hampshire si è rifiutato e allora il partito ha detto e allora Biden non lo mettiamo Biden ha vinto lo stesso perché gli elettori hanno scritto potevano scrivere il nome anche se non era nella lista lui ha vinto lui praticamente fino adesso l'oppositore forse l'unico è Phillips questo congressman del Minestota che ha tanti soldi è miliardario e lui a lui piace Biden cioè lui lo dice dice io io voterei ma Biden è troppo anziano quindi io mi candido perché se no siamo nei guai e Biden comunque ripeto per ora non ha un'opposizione veramente forte e quindi si pensa che nelle primarie che inizieranno le vere primarie in Sud Carolina per il Partito Democratico vincerà facilmente e poi dovrebbe avere come tutti i presidenti del resto perché quando un presidente ha una forte opposizione attenzione perde è successo a Carter che aveva Kennedy è successo a Bush padre quando un presidente ha un'opposizione forte interna perde certo allora senti una domanda la facciamo la prossima volta perché volevo fare una domanda dalla visuale italiana ha parlato la Meloni del futuro nostro presidente del consiglio del futuro dell'America di quello che potrebbe essere la politica estramericana diciamo dopo una eventuale vittoria di Trump e gli eventuali rapporti con l'Italia ma la rimandiamo alla prossima puntata volevo farti invece un'altra domanda c'è un articolo oggi sul Corriere della Sera che mi ha colpito che è di Massimo Gaggi che è firma del Corriere della Sera dagli Stati Uniti che dice Donald non tira più sui media e parla di talk insomma semideserti anche con con gli sponsor o con per il pubblico cioè c'è una non affascinazione almeno in questa fase di quello che è stato Donald Trump anche attraverso il conflitto qualche volta Trump ha con i media ma c'è come un'abitudine al nome di Trump non so se io l'ho tradotto bene questo pensiero o tu me lo puoi confermare leggerò non ancora non ho letto il pezzo del bravo collega Gaggi ma ha centrato in un senso infatti se lui per esempio Trump non sta partecipando più a nessun dibattito mentre prima partecipò ai dibatti ora non si fa vedere la Eli l'ha detto anche ieri sera ah tu non mi perché non viene dibattito la strategia è quella cioè Trump non ha bisogno ormai il marchio è ormai un marchio che non ha bisogno di esporsi troppo quindi è uscito dai media ci sta pochissimo se ci va ci va solo su Fox ovviamente nei social c'è nei suoi social c'è i social però non è non è è giusto non è più non ha bisogno di essere come prima davanti alla televisione costantemente attenzione non c'è lui ma si deve parlare di lui perché questa è la forza di Trump bene o male purché se ne parli e infatti l'America come noi anche da qui continuiamo a parlare senti siamo veramente siamo davvero agli inizi è chiaro che questa macchina durante il corso dell'anno man mano che va avanti diventerà sempre più appassionante ma quando ero sono venuto a New York a ottobre per il compleanno di Hitler per se ci siamo anche conosciuti personalmente ho visto anche personalmente devo dire con grande emozione il tuo ufficio lì all'ONU con grande emozione ho visitato il palazzo dell'ONU si diceva ma poi in fondo l'opinione pubblica americana è molto distaccata a livello medio non parlo dei salotti degli intellettuali è un grande paese ricordiamolo se no facciamo lo shock dell'altra volta che gli intellettuali italiani si sono accorti che c'era il middle west che non si votava solo nelle cittadini di New York di Boston o della California bisogna fargli rivedere la cartina ai nostri intellettuali che c'era questa per ora disattenzione questo distacco dalla politica io non so se questo è vero o è vero solo per ora perché poi magari a giugno invece i motori saranno scaldati insomma è vero che la società americana non vive di pane politica questo è vero non stanno lì da mattina alla sera a discutere di politica però Trump è riuscito a coinvolgere nella politica coloro che invece non andavano a votare mai e questa è la forza di Trump cioè Trump è riuscito a far andare come parlare di questi stati dell'Iowa del Wisconsin di stati dove una percentuale altissima non era mai stata coinvolta in politica lui è riuscito ad avere un messaggio per questo lo chiamano movimento il MAGA è un movimento lui è riuscito a portarli in politica quanto questi poi al pub quando vedono la partita di baseball stanno a parlare di politica quello magari non è il caso però quando è il momento di andare alle elezioni ci sono generazioni e generazioni americane che non avevano mai votato e da quando Trump è in politica vota e questa è la sua forza allora io invece lo trovo molto appassionato tutta questa molta storia quindi speriamo di rivederci presto credo se non ci sia una variazione ci vedremo dopo il voto in Sud Carolina se non sbaglio più o meno oppure magari una settimana prima per dire se Cigli è ancora in corsa o no potrebbe recuperare stiamo abituando il nostro pubblico al fatto che noi queste primarie le seguiamo le seguiamo con attenzione le seguiamo con te grazie a Stefano Vaccara corrispondenti di Italpress New York ci rivediamo allora al prossimo appuntamento e grazie a voi che ci avete seguito arrivederci